Ciao a tutti, benvenuti a questo video tutorial. Sì, in questo video vi voglio mostrare brevemente come cambiare watch face al vostro Xiaomi Mi Band 4. Me lo tolgo, ve lo faccio vedere. È una delle caratteristiche più apprezzate di questo piccolo smartwatch. La watch face sarebbe la veste grafica dello smartwatch. In questo momento, vediamo se riesce a prenderla in dettaglio, è caricata questa, vedete? Ora vi mostrerò come attraverso uno smartphone Android è possibile cambiarla in pochissimi secondi. Allora, per prima cosa occorre andare a scaricare un'applicazione terze parti che permetta proprio la possibilità di scaricare decine e decine di watch face. Allora, andiamo a sbloccare il mio smartwatch. Ecco, prima cosa da fare, andare nel Google Play Store. Dopodiché scriveremo nella parte in alto, appunto, watch face Mi Band 4. Vedete in alto? Allora, guardate, la prima che viene presentata, mi allontano un po' per farvela vedere meglio, si chiama appunto Mi Band 4 Watch Faces ed è quella che io utilizzo per la maggiore. Poi ve lo scriverò in descrizione il nome dell'applicazione. Aprite l'applicazione, che ora si presenta con l'ultimo aggiornamento in questo modo. Eccola qua. Non adesso, non gli diamo nessun voto. Allora, prima cosa da fare, innanzitutto selezionare la lingua che volete compaia sulla vostra watch face. Lo si fa cliccando, vedete, nel menu in alto a sinistra. Vedete che poi compariranno una serie di bandiere. Noi andiamo a scegliere quella italiana. Dopodiché, ecco qua, tutta la serie di watch face che avete a disposizione. Io ne ho già scelte alcune che mi piacciono più delle altre. Ecco, per esempio, vogliamo scaricare sul nostro Mi Band 4 questa che vedete qua. Ci clicchiamo sopra. Vi ricordo che sullo smartwatch ne è presente un'altra. Eccola qua. A questo punto dobbiamo cliccare sul pulsante che vedete qua rosso per scaricarla. Togliamo la pubblicità. Ecco, allora, questa è la parte importante. Mi avvicino per farvela vedere meglio. Vedete? L'applicazione vi dirà di andare a cliccare sull'applicazione ufficiale Mi Fit, poi sul profilo, su Mi Band 4, sull'impostazione di quadrante orologio. Dopodiché dovrete selezionare la watch face che ha questa specie di signorina di origini asiatiche. Non preoccupatevi anche se l'immagine è diversa rispetto alla watch face che avete selezionato, perché cliccando su questa watch face comparirà proprio la vostra nuova watch face desiderata. Quindi, andiamo a cliccare su Apri Mi Fit. Come vedete, si apre l'applicazione ufficiale. Abbiamo detto profilo, quindi in basso a destra. Dopodiché Mi Smart Band 4 nella parte in alto. Poi vedete che qui in alto c'è scritto impostazioni display. Ci clicchiamo sopra, ecco qua l'elenco delle watch face precaricate. Noi dobbiamo andare a cercare, abbiamo detto quella con la copertina con la ragazzina asiatica. Eccola qua, vedete? In quinta posizione in alto. Ci clicchiamo sopra, mi dirà, sincronizza il quadrante. Io ci cliccherò sopra. Vi faccio vedere che cosa capiterà al Mi Band 4. Una volta che ci abbiamo cliccato sopra, vedete? Comparirà l'icona di sincronizzazione. Vediamo se riesce a mettere a fuoco la telecamera. Vedete? Nel frattempo il cursore comincerà a scaricare. Dovete semplicemente attendere che abbia finito. Una volta che avrà completato, vi faccio vedere, per magia, la nostra nuova watch face è precaricata. Tutto qua, quindi molto molto semplice. Spero che vi sia stato utile questo tutorial. Per questa volta è tutto. Vi rimando al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Se avete qualche domanda su procedure da effettuare sul Mi Band 4, contattatemi pure nei commenti qui in basso ai miei video. Ciao a tutti, da Andrea Meini.